La Juventus sta puntando a De Jemi del Borussia Dortmund, un esterno sinistro d'attacco, un giocatore che a quanto pare piaceva aggiuntoli già da molto tempo. Un acquisto che potrebbe essere molto costoso, si parla di 40 milioni più 5 di bonus, la richiesta del Borussia Dortmund, quindi un altro investimento molto importante per la Juventus, dopo Douglas Luiz e in prospettiva Copminers e nel mezzo anche Kefren Turam e Todiboh. Karim a De Jemi, nato il 18 gennaio 2002, tedesco, trasferitosi al Borussia Dortmund nel 2022. Era cresciuto infatti in Germania per poi passare nella galassia Red Bull tra il Salzburgo e il Liefering. Poi l'accessione appunto al Borussia Dortmund per 30 milioni di euro quando aveva appunto 20 anni, quindi già una cifra molto alta e bisogna dire però che ha un po' sofferto a De Jemi, che appunto è un esterno sinistro d'attacco prevalentemente, piede preferito mancino, il salto di livello e di categoria. Infatti a livello di carriera notiamo come in 68 presenze nella Bundesliga austriaca ha messo a segno 27 reti fornendo anche 17 assist, mentre in 45 presenze nella Bundesliga tedesca ha messo a segno solo 9 reti fornendo solo 7 assist. Stesso discorso possiamo farlo in relazione alla Zweite Liga austriaca, alla Serie B austriaca dove Puri ha giocato, 35 presenze, 15 gol e 12 assist e le giovanili tedesche dove in 21 presenze fece 19 gol. Poi però salendo di livello e andando anche in Champions League 29 partite solo 8 gol e 3 assist. A livello di nazionale solo 4 presenze però con un gol nella nazionale maggiore tedesca e poi una ventina circa di presenze nelle nazionali giovanili. Quindi un giocatore da una modesta esperienza internazionale fino a questo momento però appunto ancora deve compiere 23 anni, già ha spostato tanti milioni, ha delle qualità sicuramente evidenti nel suo modo di giocare, è un esterno d'attacco sicuramente forte ma vale la pena investire 40-45 milioni per la Juventus per un giocatore come lui? Questo naturalmente si chiedono i tifosi della Juventus, la Juventus comunque non ha un esterno sinistro d'attacco perché a sinistra fondamentalmente hanno giocato Kostic, Rabiot e in parte Chiesa in quest'ultima stagione. Ealing aveva giocato pochissimo ed è stato venduto nell'operazione Douglas Luiz. Ci sarebbe ancora Chiesa sul quale però Motta ha fatto capire che potrebbe esserci qualche valutazione differente ovvero potrebbe andare via. Poi c'è Ildiz in realtà ma non necessariamente giocherà esterno a sinistra perché Ildiz è più propriamente una seconda punta o un trequartista centrale e quindi serve qualcuno a sinistra al netto di Hasa e Bangula, giovani della Next Gen che sono stati chiamati da Motta per il ritiro tedesco ma non è detto che ci si punterà. Però appunto ci si potrebbe puntare, evitare di comprare a Deyemi, evitare di spendere questi soldi che costerebbero anche di dover fare ulteriori incassi con altre cessioni e non è detto che ci si riesca e puntare appunto su Ildiz, Hasa e Bangula per esempio. Ma queste sono valutazioni che deve fare Motta con il suo staff e giuntoli con il suo staff ed evidentemente stanno facendo valutazioni diverse. Quel che è certo ed è stato riportato praticamente dalle principali fonti giornalistiche sul calciomercato e che la Juventus è in contatto con a Deyemi per offrirgli appunto un contratto, per trovare un accordo. Poi si passerà alla trattativa vera e propria con il Borussia Dortmund ma si tratta di un acquisto a titolo definitivo eventualmente e quindi un impegno importante. E quanto tempo servirà per portare a termine questa trattativa? E perché non è cominciata prima? O se è cominciata prima perché si è ancora alla fase del mettersi d'accordo sui dettagli? Non arriva nel caso un po' tardi a Deyemi alla corte di Tiago Motta e quindi non rischia di essere un acquisto un po' tardivo che mette in difficoltà anche sia Deyemi sia Motta e la squadra nella costruzione del gioco che la Juventus dovrà fare in campo? Considerazioni e opinioni che sono in questo momento legittime per quanto ovviamente possono essere divergenti nell'attesa di capire se effettivamente Karim a Deyemi sarà un nuovo giocatore della Juventus. Grazie a tutti.